Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info E qui di nuovo, abbiamo mangiato 5 brisutti e agli ucchi E' bello! Lo teneremo, ma buon E' un'altra cosa Non c'è mica un affare di tigena a te? No, cosa? Vediamo Ah, l'umoridrato C'è la mia uncolore, non? A l'est di Caragouto C'è la mia uncolore 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 Allora guarda, metti qui una botte di la stanza E ti calcoli a dire A maniera da cantare tenendo conto di come tu campi E per voi, non c'è la mia uncolore E io ma guarda, questo ti ha visto questa cantera quella con mia amica Con mia servo mica E mi dice che ci possiamo metteremo già e possiamo metteremo spettetti E così a Roma sta mica messe E non lo vedi, eh? Ha capito che una cantera E non è più la calace alla piuda Cerbelone Non ti ho mai conto? E così non perderemo tempo a cercare la roba spabersa, no? Ma stai massente Eri mi diceva che si va attenta a cioccolare che ci siamo in internet E oggi diceva un'obbligazione come accanto a vostra casa E io ma dico perché E io ma se non ho oggi Qual è che accanto a lui? E' bibì Non è mica Oh! Eh, guarda che è Eccolo Eccolo Chi c'è? Non va mica? Ho solo l'obbligo di tutto Oh, non avevi fatto un tuto per imparare cosa trovai Di una catastrofa Eh, vabbè, eh, tuto c'è troppo non ti aiuterà E poi non viaggiano mica dritti, no? Ma che sui aggia? 6 milioni e ho visto in due giorni Un bel rupeuse Allora, guarda? Oh, egumenti Oh, fa casa qui, certi soldi Oh, non c'è che felicitazione Fora di l'ultimo e di gusti Amandato tutto in l'aria Eh beh, formidabile Ma che sui aggiano Sai quilo un somica come i machi Eh, l'untica piano mica d'audì Au revoir Eh beh, si ton fils il revient plus ici Tu vas plus m'aimer Eh, ça c'est fort possible Quoi? Tu as vu m'aimer? Ah non, non, pas ça, non, ça c'est impossible, non En revanche, qui trouve qu'au village on s'emmerde, ça Mais tu sais quoi? S'il te plait pas mon village T'as qu'à repartir à Paris avec lui, ça va? Non, ma biquette Il m'universal Que goût est-ce que c'est ? C'est quoi ? Ma tu as vuole un pomme de l'insalade Et tu n'as pas vu, donc tu as vuoi C'est quoi ? M'ai plu l'insalade, non ? Quanto à la princesse, et me le pomme Et puis... On y a pas ou quoi ? Non, 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 non c'è un dubbio, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa. Ma già capito, dopo mezz'ora non avete visto Luisa. E si è andata in casa Zoya. E che avete fatto? Solo voi con mi pena, solava mi condena. Correré mi destino Para burlar la ley Perdido nel corazon